Batteria scarica o no? Io vi porto su Among Us Ma oggi non siamo Per giocare Per giocare insieme agli altri Oggi siamo così Per vedere le Sì mi chiamo Salvini Per vedere le cose di Halloween Iniziamo con quella zocca sul tavolo Ok Adesso vedremo le decorazioni di Halloween E là il fantasma Mamma mia quanto è bello Ok La melma blu Che dovrebbe essere la melma blu Tipo bava di fantasma Ok Dimmi 5 Una zucca Non molto Ok Poi abbiamo qua un'altra zucca Molto carina Piccolina piccolina Altro slime Attaccato ai muri E questa qua Cioè ma se uno si vuole sedere Come fa? Cioè ma spiegami Perché? Vabbè Andiamo avanti Guarda Tutte le ragnatele Questa zucca è È una cosa bellissima È bellissima Vabbè Continuiamo con lo slime Altri zucca e altri fantasmi E visto che stiamo su Among Us Facciamo un po' di cose Che dovrebbe essere? Cosa? Cosa? Boh Non l'ho capito molto Ok Allora Visto che stiamo Facciamo un po' di task Comunque Se volete Video di Among Us Basta che me lo dite Basta che mi scrivete Nei commenti Che se volete Una partita Perché Se volete Vi posso portare Una partita Con Altri youtuber O anche con Beh con gli youtuber Che conosco io Quindi come me Pochi iscritti E E pochi fanno Vabbè Oppure i miei cugini O i miei amici Posso portarvi video Quanti Volete Quando Volete E Non dico l'altra frase Vabbè Ok Allora Guardate qua il candelato Che cosa Spaventosa Allora Il primo video Che ho fatto Su Among Us Non sapevo ancora Cosa Come si faceva Come si giocava E quindi Se Ah Quindi Se Vedavate Che Era una cosa Un po' strana Cioè Non Non ce l'era Tipo questo qua Poi A poco a poco Ho iniziato a capire Come si doveva giocare Devo fare Un video Con un altro Youtuber Che sa XSAMU 12 Non mi ricordo Come si chiamava XSAMU Qualcosa Ok Votiamo a caso Hanno puntato Due Dimmi Quattro Dummi Dummi Quattro Dummi Quattro Molto Realistico Anche se Giochiamo Da Soli Così Tipo Radei Vabbè Non può essere Nessuno Perché è una partita Senza cattivi Quindi Comunque Come vi ho detto Oggi Vi volevo far vedere Solamente Le cose Ok Stava succedendo Il casino Qua Boh Non lo so Ok Continuiamo Comunque Come ho detto Se volete Il video Domani Uscirà un video Di minecraft E altri Videogiochi Quindi Non dovete Perdere Assolutamente Il video Di domani Video Di domani Non dovete Perderli Assolutamente Perché Perché Sì Non li perdete Mi raccomando Ok Poi Ok 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 Mamma mia Quanto So Forte Se l'avrei fatto Con gli altri Sarei già morto Pensate Bene Ragazzi Non vi voglio Trattenere Un altro Po Perché Comunque Volevo Giocare Per vedere Solamente Le cose Di Di Halloween E quindi Sono diventato Impostore Ragazzi Così No No Vabbè Adesso Continuo A uccidere Tutti Tutti Quanti Uccidiamo Uccidiamo Tutti Quanti Ok Uccidiamoli Tutti Uccidiamoli Tutti Che bello Quando si Da solo In partita Ci sono I I I I I I Ammazzarli Un altro Un altro Un altro Ne dobbiamo Trovare Tutti Quanti Ne dobbiamo Uccidere Mamma Mia No Qua Non ci sono Ce ne sono Pochi In tutta La mappa Ma Io Non so Cosa Spinto Per diventare Impostore La Casella Rossa Avrò Spinto Eccolo Un altro Morto E il fatto E che nessuno Vede Dalle telecamere Nessuno Si muove Nessuno Cammina Questi Doomy Restano Fermi Che bello Che bello Io ne voglio un altro Io ne voglio uccidere Io Adesso Voglio uccidere Di tutti Ecco Non l'ho ucciso Cosa mi è riuscito a scritto Sono tornato in vita Ok Allora Chi sarà mai Dimmi uno È stato lui Niente raga Lo so che Secondo voi Che lo faccio finire Per otto minuti Lo so che secondo voi Sarebbe tipo Eh Stai registrando Sì Ok Allora Era entrata mia sorella Intanto Oddio Oddio Bello Aiuto Aiuto Ok Chi sarà mai Hanno buttato Dummi sei Quanta gente Sta morendo Mamma mia Quanta gente Sta morendo Mamma mia Mamma mia Io li ammazzerò Tutti Non lo faccio Non lo faccio più Io Attendo Non mi sono preoccupato 3 2 1 Impostore Tua nonna Ok Ciao